Buongiorno, un saluto a tutti i presenti, alle autorità, ringrazio il nostro sottosegretario che ha voluto partecipare, ringrazio il Vice Ministro Bubbico che ha sostenuto con entusiasmo questa iniziativa per la firma del protocollo d'intesa con la conferenza dei rettori delle università italiane. Saluto il suo Presidente, il Professore Gaetano Manfredi che ringrazio per essere intervenuto e per aver voluto partecipare a questo progetto. Per la prima volta oggi andiamo a sancire con la firma del protocollo d'intesa un'iniziativa molto importante che segna l'avvio di una nuova collaborazione che vede molteplici attori. In primo luogo la conferenza dei rettori delle università italiane che ha il compito di promuovere e sostenere le politiche culturali e sociali orientate all'accoglienza, all'integrazione, alla promozione della persona indipendentemente dalla sua condizione e dalla sua provenienza. Tutte le università italiane poi che all'insegna dello spirito universale e inclusivo che le caratterizza hanno come missione la formazione culturale, professionale e umana delle nuove generazioni. E poi il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno che attraverso la Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo realizza le politiche dell'immigrazione sul territorio con un ventaglio di azioni volte a garantire pari dignità ai cittadini stranieri, in modo particolare a quelli titolari di protezione internazionale che sono naturalmente quelli più bisognosi di sostegno e di tutela. Quali sono oggi gli impegni che con la sottoscrizione del protocollo andiamo a sancire? In particolare la conferenza delle università italiane promuoverà l'inserimento degli studenti titolari di protezione internazionale presso le singole università per consentire la frequenza di un corso di laurea triennale, magistrale o un dottorato di ricerca e gli Atenei parteciperanno all'azione di sostegno mediante l'esonero totale delle tasse e contributi universitari, la possibilità di accedere alle biblioteche e ai servizi offerti a tutti gli studenti. Il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la Libertà Civile e l'Immigrazione concorrerà ai costi di vitto e alloggio sostenuti dagli Atenei per ciascuno studente regolarmente iscritto e utilmente collocato nella graduatoria. Inizia quindi una collaborazione importante, molto importante, e per la quale ringrazio il contributo di pensiero e di azione del Rettore della Università della Calabria, Professor Crisci, e del suo prorettore, Professor Filice. Una sinergia che si basa sul valore della integrazione e sulla capacità di potenziare il dialogo attraverso la formazione universitaria, favorendo l'incontro tra culture diverse e supportando con azioni concrete di tutela e di inclusione gli istituenti titolari di protezione internazionale che sono i soggetti più deboli, più vulnerabili e rispetto ai quali è forte l'impegno del Ministero dell'Interno. Grazie a questa sinergia istituzionale che si viene oggi a sancire con la firma del protocollo d'intesa, 100 studenti universitari titolari di protezione internazionale avranno borse di studio che saranno messe a disposizione per poter proseguire gli studi che hanno dovuto interrompere forzosamente. La collaborazione istituzionale tra il Ministero dell'Interno, la Conferenza dei Rettori e tutte le università italiane avrà inizio dall'anno accademico 2016-2017, quindi immediato l'inizio. Mi piace sottolineare che gli obiettivi di questo protocollo sono perfettamente in linea con la recente risoluzione del Parlamento europeo del novembre 2015 che rega l'invito alla Commissione e a tutti gli Stati membri a creare corridoi educativi per l'alta formazione, affinché siano accolti nelle università studenti provenienti da paesi in conflitto, in particolare dalla Siria, dall'Iraq, dall'Eritrea, ma anche tutti i paesi per i quali occorre un sostegno e per i quali è prevista il riconoscimento della protezione internazionale. A questo proposito saluto e ringrazio l'Onorevole Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura, che ha fermamente sostenuto e voluto questa iniziativa. E poi saluto la rappresentanza degli studenti che oggi sono qui presenti e voglio appunto ricordare che la loro presenza testimonia che il mondo universitario è connotato in senso multiculturale e partecipa attivamente ai processi di integrazione. Adesso passo la parola al nostro capo dipartimento, Mario Morcone, che con impegno e forza sostiene sempre queste iniziative con l'entusiasmo che gli è proprio. Grazie. Grazie Rosetta. Io intanto davvero do il benvenuto a tutti e ringrazio della presenza non solo, ma anche dell'impegno che stiamo mettendo tutti su un percorso, su uno dei percorsi di integrazione fondamentali in un momento come questo di trasformazione nel nostro paese. Però consentitemi di fare una piccola capriola nel programma. E quindi francamente io rinuncio volentieri al mio intervento che sarebbe ripetitivo per dare invece la parola anche al nostro sottosegretario Manzione che è qui presente con noi. No, no, e che ci tengo che dica due parole su quello che stiamo facendo anche in materia di integrazione. Ti prego sottosegretario, preferisco che dici due parole tu. No, no, ti prego. No, mi sembra fuori luogo che tu sia qui con noi ad ascoltare che cosa. Stiamo facendo insieme le cose, è vero. Stiamo facendo insieme le cose perché siamo convinti con il sottosegretario Manzione, con il viceministro pubblico ovviamente, che ringrazio ancora per la sua presenza. Qui stiamo scommettendo su una cosa fondamentale, su cui il nostro Paese secondo me deve fare un ragionamento più ampio e mi permetto di cogliere anche la presenza di autorità politiche come Silvia Costa, come Manzione, come Pubblico, per riflettere su un tema che è quello dell'inclusione sociale e che è davvero la nuova frontiera per noi, Paese Italia. E' chiaro che, voglio dire, ci può essere o non ci può essere vera o presunta sofferenza dei territori nell'accoglienza, è chiaro che tutti ci battiamo per una politica comune, europea, ma in un tempo come questo la partita vera, la partita di fondo è esattamente quella dell'inclusione sociale e dell'integrazione delle persone che vengono da noi. La partita vera, secondo me, è esattamente quella di riuscire a trasformare, come qualcuno meglio di me ha detto, la difficoltà dell'accoglienza in un'opportunità per il Paese. Un tema, peraltro, oggi che si sta diffondendo in maniera vasta anche nelle varie associazioni di categoria, penso a Confindustria, con la quale associazione abbiamo firmato, con il Ministro Alfano e il Presidente Boccia, abbiamo firmato un protocollo proprio finalizzato a training nelle aziende, e anche la ricerca di Confindustria, come altre ricerche di titolati, studi, pongono in rilievo la necessità davvero di un progetto sistemico per il nostro Paese, di inclusione e di integrazione delle persone che vengono da noi. Sono una ricchezza, non sono solo una difficoltà, perché naturalmente poi bisogna trovare insieme a loro una strada comune di convivenza civile, ma sono una ricchezza e rappresentano il futuro del nostro Paese. Da qui nasce una serie di iniziative, non solo una serie di iniziative, quello che abbiamo fatto con il CONI, quello che abbiamo fatto con Confindustria, quello che oggi firmeremo per i percorsi universitari, per una formazione di alto livello, quello che ancora dobbiamo fare, certamente su altri settori strategici nell'economia del nostro Paese, come l'agricoltura e l'artigianato. Io credo che la scommessa è tutta qui. E voglio dire, alle tante chiacchiere vuote, se gli arrivi sono pochi o sono troppi, sono concentrati più o meno, in realtà dobbiamo riuscire a cambiare verso, a cambiare tono, per usare cambiare verso, è una frase che piace molto al nostro Presidente del Consiglio, e verso invece appunto un percorso che ci faccia come Paese più forte, che rilanci davvero lo sviluppo e di queste persone che arrivano noi abbiamo assolutamente bisogno. Non sono per noi una difficoltà, non sono per noi un limite, al contrario, sono un'opportunità. Come Italia la dobbiamo vivere, ma su questo dobbiamo investire. E per questo sono particolarmente contento oggi dell'occasione che ci offre la Crui, costruendo dei percorsi di formazione, e sono convinto che dovremo tutti spingere in questa direzione. Ci prepariamo anche attraverso i fondi europei, ovviamente l'AMIF, o FAMI, come preferite chiamarli, e lo stesso PON Legalità, a costruire anche occasioni di lavoro per queste persone. Lo faremo secondo criteri, diciamo, meno tradizionali, e un po' più innovativi, penso alle start-up anche per esempio per i migranti, e insomma è una scommessa sulla quale io sto puntando molto, perché credo che dobbiamo davvero spostare il livello della discussione e della riflessione tra di noi da una politica sterile di confronto, qualche volta anche un po' insomma troppo scarna, usiamo questo termine un po' più diplomatico, verso un progetto per il nostro Paese che è quello che invece davvero ci interessa. Io mi fermo qui, però vorrei davvero, sottosegretario, che dicessi qualche parola pure tu. So che sono bravissimo, ma tu sei meglio di me, questo si sa. Grazie Mario. Cambiare verso, ecco, penso che, come hai detto, che bisogna cambiare verso e questa iniziativa penso che possa contribuire, ecco, con l'aiuto di tutte le università italiane, con il sostegno della conferenza dei rettori, penso che si possa, ecco, contribuire in questo senso. Adesso lascio la parola all'onorevole Silvia Costa. Grazie. Intanto grazie davvero per questo invito e sono felicissima di essere qui. Tra l'altro ringrazio molto anche il Ministro Bubbico, saluto la Sassuola della Manzione e soprattutto, devo dire, naturalmente Mario Morcone, una lunga storia di collaborazione su vari frangenti abbiamo avuto. Una volta ce lo racconteremo. E soprattutto mi fa piacere incontrare anche il Presidente della conferenza dei rettori italiani, che è stato con molta simpatia, anche perché lui sa quanto siamo stati impegnati su questo fronte al Parlamento europeo. E naturalmente, consiglio di dirmi che, probabilmente, senza il prefetto Scotto Lavina, dopo la nostra iniziativa che facevamo per lanciare qualche tempo fa, questa iniziativa al MIUR, insieme anche agli interni, agli esteri, all'UNHCR, che tra l'altro è qui, e anche all'Associazione Europea delle Unità di Stanza, che c'è il tema di creare poi delle possibilità anche per quelle che sono le iscrizioni dei ragazzi, anche online, quella anche è un'opportunità che c'è, e che su quello si è predisposto già una piattaforma disponibile, probabilmente questa unione non ci sarebbe stata. Dicevo prima, mi sono anche un po' emozionata, perché questa parola, carri dò educativi, me la sono inventata un giorno in Parlamento europeo, per dare un segnale che non fosse soltanto la classica, borse di studi per gli studenti, rifugiati, eccetera. Mi sembrava che dovessimo dare un segnale forte, e questo l'abbiamo approvato ufficialmente nella risoluzione che voi richiamate nel vostro protocollo, ogni tanto c'è un'Europa che fa delle cose buone, io sono presenta alla questione cultura ed educazione e tento di farlo. Insieme alla Commissione per la Comunzione della Cooperazione dello Sviluppo, insieme abbiamo fatto una risoluzione, un rapporto di iniziativa del Parlamento, che è stata approvata a novembre, e qui opportunamente richiamata, e che fra le varie sfide che fino ad allora erano state in qualche modo, nella cosiddetta emergenza umanitaria, non sufficientemente considerate, abbiamo inserito con forza il tema dell'education. Accesso all'educazione, accesso ai servizi educativi per i minori nei campi profughi, e se non parliamo di questo, in questo momento parliamo di quelli che sono là. Possibilità di ricostruire in qualche modo quei legami che, attraverso l'educazione, la scuola, l'università, sono... guardate, se voi andate a parlare con i genitori dei campi profughi, la prima cosa che vi chiedono è che i nostri figli possano continuare a studiare, rischiamo più di una generazione perduta. Questo è il senso. Questo vale in senso generale, mondo, tutti i campi profughi che sono nei paesi, diciamo, Nord Africa, Medio Oriente e poi nel mondo. L'Europa quindi ha voluto fortemente fare questa risoluzione, che infatti parla soltanto della parte education. Dentro questo framework noi abbiamo inserito queste due idee forti, che so, sono all'attenzione del governo italiano che è uno dei primi governi che ha riaccolto questo appello in modo formale, e la prima rivolta ai minori, diciamo, quindi se non parlo adesso proprio degli universitari, una grande campagna che abbiamo fatto e che oggi è diventata una risoluzione con anche risorse dedicate, che si chiama EDUCA, ovvero ci siamo resi conto che oggi nell'ambito di aiuti umanitari, parlo in generale, la quota, la percentuale che va all'interventi educativi è solo del 2%, sui 3,2 miliardi che l'Europa, primo donatore, ricordiamocelo ancora, al mondo, dà alle emergenze umanitarie, la quota è del 2%. Abbiamo fatto una campagna, l'abbiamo chiamata Go for 4, vai al 4, sembra poco, ma intanto ci siamo riusciti, e alla conferenza, la prima conferenza mondiale a Istanbul, che c'è stata due mesi fa, sulla umanitaria, l'Europa ha fatto da capofila stanziando 52 milioni di euro in più per quest'anno, l'anno prossimo, dedicata a questo aspetto. Cioè i minori, non si possono lasciare centinaia di migliaia di minori senza nessuna forma di educazione, quindi poi non possiamo lamentarci della radicalizzazione, non possiamo lamentarci del fatto che non hanno prospettive e che non possiamo ricostruire anche un tessuto, diciamo, di rapporti. L'altro aspetto, che sembrava rimanere un po' sullo sfondo, è chiaro, i minori vengono prima, è giusto, ci è sembrato quello appunto che abbiamo chiamato Corridoi Educativi e sono felicissima che vi avete ripreso questa dizione, come anche la Ministro Giannini nel protocollo che è in corso di firma al MIUR sta definendo, perché questa è la definizione ormai ufficiale che è passata nelle policies europee. Io ritengo che questo protocollo, che in sostanza consente di dare un primo forte segnale, 100, borse di studio, poi ho visto che avete un meccanismo giusto, cioè che rispetta anche l'autonomia dell'università, poi saranno loro a decidere se avvalersi o meno degli antiritturistudio, se lo fate direttamente, ma questo attiene poi a quello che dirà il professor Manfredi. È interessante il fatto che voi, mi sono subito informata, come avvertite questi ragazzi, perché poi è lì che poi il tema è importante, e so che le prefetture saranno allertate, immagino che lo farete in diverse lingue, che ci sia insomma un'azione proattiva per far sì che i ragazzi, perché voi vedete i ragazzi che sono studenti universitari, ma anche, diciamo, in qualche modo un po' meritevoli, perché possono essere inseriti. Ritengo che sia di fondamentale importanza il collegamento con quella piattaforma online nelle varie lingue, compreso l'arabo, che ha predisposto l'Uninetune, insieme alle associazioni di tutte le università europee, penso insieme a Unimed, perché, di cui fanno parte molte università italiane, compresa la Calabria ed altre, perché ritengo che sia necessario che ci sia una possibilità, diciamo, interattiva molto forte, per consentire anche che poi a questo si possano aggiungere anche altre iniziative, anche spontanee, che stanno avvenendo. Io so che ci sono alcune università che vanno raccolto l'appello molto presto, già verso dicembre e gennaio. In particolare, non so se sono presenti, volevo fargli ricordarla, è stato appena firmato un protocollo fra tre università del Nord, parlo del Politecnico in Torino, dello Uav di Venezia e Ca' Foscari di Venezia, per 50 ragazzi che saranno dedicati, studenti che sono dedicati soprattutto a alta formazione nel campo dei beni culturali, perché l'altra grande questione che noi abbiamo sollevato in un Parlamento, e devo dire che la risoluzione che abbiamo fatto noi è stata la prima in Europa, è quella della maggiore cooperazione, attenzione alla distruzione, purtroppo intenzione al patrimonio culturale, e tutte le competenze in questo campo, visto che ci sarà poi la ricostruzione, ci capiamo, il restauro, con le eccellenze anche che l'Italia, le università italiane, gli istituti italiani possono dare, anche quello sarà un campo interessante di cooperazione. E mi piace però riprendere, chiudo, l'intervento iniziale di Mario Morcone, lui ha detto una cosa giustissima. Noi dobbiamo rispondere, da un lato, un tema, chiamiamolo pure, emozionale, e quindi queste sono segnali forti di integrazione, di, diciamo, dare un volto ai rifugiati, non si può dire i rifugiati, si deve dire che ci sono gli studenti, che ci sono le madri, che ci sono dei professionisti, che ci sono, ecco, ci sono diverse tipologie, e cominciamo a dare volti e storia a queste persone. C'è una narrativa che non c'è su questo, e l'ho chiesto anche alla RAI, che sia più attenta a questa dimensione, non sono invasori. Secondo, si dà il segnale di volere investire nelle persone, che è la vero capitale di questi paesi, che potranno poi tornare, e so già, per esempio, che alcune università stanno pensando poi a sostenerne il rientro, e quello sapete cosa significa, secondo me, è anche una grande sfida all'internazionalizzazione delle nostre università, significa una grande sfida alla cooperazione culturale e scientifica. Questa è la classe dirigente, probabilmente, di domani, e avremo allora anche dei rapporti amichevoli, di pace, e noi dobbiamo costruire ponti dove altri fanno muri. Questo è il senso. E io di questo vi ringrazio, veramente ringrazio il ministro, perché io trovo che avete colto questo significato. Terza cosa, e ultima, non so se è terza, dico terza, ma non è terza, è questa, risorse. Tu le diceva, Mane Morcone, che ci saranno anche risorse dai vari fondi. Ecco, io vorrei dire due segnali. Uno, il Migration Compact, che adesso, anche in Europa, avrà nel 2017, delle risorse che si spera che ci siano, ma soprattutto anche risorse che possono essere prese da nuove strategie che stanno facendo sulle migrazioni, che avranno anche più bilancio. Nel 2017, noi questo vogliamo, nel bilancio che sarà discusso fra poco, in Parlamento, e l'altra è il fatto che noi abbiamo dedicato, abbiamo lanciato, direi capofila alla Mogherini, è stata lanciata finalmente una bellissima iniziativa che riguarda ben tre commissari di rapporti con le relazioni esterne, il vicinato, quindi per noi è molto importante, il paese mediterraneo e anche dei Balcani, e il commissario alla cultura, all'educazione, e adesso noi la seguiremo, io sono un rapporteur nella Commissione Cultura, insieme agli esteri, quindi cerchiamo di lavorare in modo un po' non i silos, in modo un po' trasversale, ed è le nuove relazioni culturali, educative e scientifiche nell'ambito delle relazioni internazionali, cioè finalmente è stato fatto un framework con tutte anche le risorse che a volte non sappiamo male bene dove stanno, con tutte le policy già in atto per dare finalmente un'organizzazione anche a livello europeo a far sì che ci siano delle nuove, una centralità forte della parte education, della ricerca e della cultura in tutte le relazioni internazionali, perché si è finalmente capito che non è un fatto ornamentale, ma è sostanziale dei processi anche di pace e di cooperazione. Credo che questo sia il senso di questa iniziativa e io dico anche che a parte la Germania che vabbè in questo la Germania è anche una realtà di profughi rifugiati che sapete bene che è stata la policy a un certo punto della Merkel e così via e poi loro hanno già una struttura dedicata alle borse in questo senso, però devo dirvi che questo, io ne ho parlato con Filippo Grandi, il presidente dell'UNHCR, il nuovo segretario generale dell'UNHCR quando abbiamo lanciato questa cosa ha detto che questo può essere un progetto, una best practice, un progetto pilota di questa modalità fatta con gli accordi che poi dovranno essere anche ulteriormente ampliati e quindi credo che l'Italia una volta tanto come sempre su questo fronte dimostra che ha un'attenzione non soltanto generica ma concreta alla realtà delle persone. grazie. Grazie onorevole Cossa e grazie per il suo impegno come presidente della Commissione Cultura che ribadisce e sottolinea ecco l'importanza della sfida culturale e quindi l'importanza anche di pensare in termini diversi al tema dell'immigrazione e molto spesso si pensa all'immigrato soltanto come braccia per il lavoro ecco invece pensare che c'è una possibilità anche invece di avere dal punto di vista culturale un apporto anche appunto proveniendo da paesi diversi e culture diverse questo è molto importante e l'impegno delle università italiane può fare molto su questo aspetto. Adesso passo la parola al presidente della conferenza dei rettori delle università italiane il professore Gaetano Manfredi grazie 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 ringrazio il viceministro Bubbico e il sottosegretario di mansione il prefetto Scotto Lavina e il prefetto Morcone e l'onorevole Costa che è stato il grande stimolo di tutte queste iniziative proprio noi abbiamo già un accordo che abbiamo già siglato con il ministero dell'università proprio su questo tema dei corridoi educativi che è un tema estremamente importante che io non definirei un tema umanitario lo definirei un tema strategico per il paese che sono due cose molto diverse nel senso che non è che noi dobbiamo aiutare le persone nel senso che le persone vanno sicuramente aiutate noi dobbiamo fare un investimento sul paese seguendo esperienze fatte già da altri paesi noi dobbiamo partire dal presupposto che esiste da un lato un tema che è un tema etico l'università e la formazione superiore ce l'ha nel suo nome un universitas cioè un luogo di inclusione di condivisione di saperi e conoscenze e quindi è nel suo DNA essere una struttura inclusiva che consente il confronto e la partecipazione di persone studenti studiosi che vengono da comunità diverse da culture diverse da lingue diverse io ricordo sempre mi permetto di farlo perché sono presidente della conferenza dei rettori ho questo privilegio ma sono anche rettore dell'università di Napoli Federico II che quando Federico II ha fondato otto secoli fa la nostra università ha detto che doveva essere un'università multiculturale in cui si parlavano quattro lingue anche l'arabo quindi l'ha detto otto secoli fa quindi adesso diciamo non è che lo dobbiamo diciamo ogni tanto ce lo ricordiamo dopo otto secoli quindi ecco questo questo aspetto è un aspetto estremamente importante perché oggi il tema del capitale umano il tema delle nuove generazioni è uno dei grandi fattori di competitività che è competitività economica perché si tratta di avere risorse importanti dal punto di vista poi dello sviluppo dei paesi ma è competitività sociale perché si ricordava prima che uno dei fattori più importanti dell'integrazione e della condivisione poi diciamo anche dei modelli sociali parte proprio da una condivisione dei modelli educativi e quindi il tema dell'inclusione all'interno dei nostri percorsi formativi dei migranti dei rifugiati rappresenta un aspetto fondamentale a cui le università stanno portando grandissima attenzione lo stanno facendo in maniera devo dire inizialmente molto spontanea cioè con iniziative molto spontanee anche confrontandosi io volevo sottolineare anche questo aspetto con grandi difficoltà burocratiche perché per esempio e questo è stato uno dei temi che noi abbiamo affrontato nell'accordo che abbiamo sviluppato con il ministero dell'università uno dei grandi temi è il riconoscimento dei titoli pregressi perché chiaramente quando noi oggi dobbiamo iscrivere questi giovani nelle nostre università abbiamo un problema di riconoscimento del titolo che adesso abbiamo trovato un certo percorso diciamo una certa soluzione che però questo è un aspetto che credo che vada risolto in maniera abbastanza strutturale perché questo è una delle grandi difficoltà guardando a una realtà molto composita perché noi abbiamo studenti universitari giovani minori che poi diventeranno degli studenti universitari abbiamo persone che hanno già un percorso universitario completato e per esempio erano già diciamo seguivano un percorso di dottorato oppure avevano altre tipologie di collaborazione con l'università perché a volte noi vediamo questi paesi come paesi dove l'università non esisteva ma non è così per esempio mi è capitata un'esperienza di un rapporto molto stretto con la Siria dove ho insegnato varie volte che aveva spero che avrà un sistema universitario molto ben strutturato e di grande di grande qualità quindi noi dobbiamo guardare questo percorso veramente guardando a tutti diciamo gli aspetti ecco io credo che il tema del sostegno e perciò ringrazio moltissimo il prefetto il dipartimento il ministero per aver messo a disposizione queste risorse il tema del sostegno come borsa di studio è un tema estremamente importante perché noi possiamo sicuramente collaborare col massimo nostro sforzo lo facciamo non facendo pagare le tasse dando tutti i servizi gratuitamente però è chiaro che spesso questi giovani hanno bisogno di un sostegno per poter poi diciamo mantenersi e la soluzione che è stata adottata visto che il tema del diritto allo studio in Italia è un tema che ha grandi diversità da regione a regione è stato un tema diciamo un po' diciamo si è scelto un percorso flessibile perché poi chiaramente va adattato a realtà regionali dove la gestione è molto differenziata questo devo dire ringrazio molto l'Università della Calabria e il suo rettore Grisci che sono stati un po' di capofila nel portare avanti questo ragionamento e diciamo cercare di dare una risposta di sistema a un tema che per noi è un tema estremamente importante quindi c'è il massimo ringraziamento e la massima attenzione da parte di tutto il sistema universitario e quindi di tutte le nostre università noi ci auguriamo che questo sia un primo passo e invito diciamo un auspicio che rivolgo all'onorevole Costa perché insomma la sua energia è ben nota quindi diciamo che il questo tema del veramente della formazione di questi giovani diventi veramente un fattore strategico perché è una grandissima opportunità è una grande opportunità noi prima ne parlavamo col Vice Ministro anche dal punto di vista delle politiche di internazionalizzazione delle università italiane il bacino naturale a cui le università italiane si rivolgono spesso sono proprio quei paesi da cui provengono i migranti e quindi questo può essere veramente diciamo l'occasione per occupare uno spazio uno spazio culturale ma anche uno spazio politico io ricordo il caso della Germania la Germania la grande penetrazione sul mercato cinese oggi della Germania è legata alle politiche che sono state fatte 20-25 anni fa di borse di studio per i cinesi che andavano a studiare in Germania adesso molti dirigenti delle grandi conglomerate diciamo industriali cinesi hanno si sono formati in Germania grazie a questa politica che è stata fatta 20 anni fa e quindi vedono la Germania come un interlocutore privilegiato e che io credo che questo veramente sia un tema che è all'interno diciamo di una politica positiva cioè di guardare al futuro non alla risoluzione dell'emergenza ma a riguardare al futuro con una strategia positiva che vede il nostro paese come protagonista come lo è stato sempre perché del resto la capacità di accoglienza delle nostre università e la capacità di inclusione di rappresentanza della nostra cultura all'interno di una dinamica globale è proprio nel nostro DNA e quindi questo non è altro che continuare in un contesto cambiato quella che è stata la nostra tradizione la nostra forza la nostra capacità e c'è la massima disponibilità il massimo impegno di tutte le università italiane come del resto abbiamo già dimostrato facendolo già perché già molte esperienze come quella che ricordava prima l'onorevole Costa sui beni culturali c'è una bellissima esperienza fatta a Napoli dall'università dell'orientale rivolta all'Afghanistan ci sono tante esperienze in Italia molto molto interessanti che messe a sistema diventano veramente una politica diciamo di paese e quindi questo ci consente poi diciamo di guardare al futuro con quella positività che fa partire fa nascere dal problema l'opportunità e quindi questo credo che sia veramente una giornata molto importante che si inquadra in tutto questo percorso che noi stiamo facendo insieme al ministero al ministro Giannini quindi diciamo in questa collaborazione complessiva di tutto il governo quindi ringrazio moltissimo per questa opportunità grazie grazie a lei Rettore mi piace molto ecco sottolineare che questo è il primo passo effettivamente noi speriamo che questa sinergia nuova con la conferenza dei Rettori e con tutte le università italiane prosegua naturalmente nel futuro per fare dell'emergenza diciamo una nuova opportunità lascio adesso la parola al nostro viceministro al senatore Filippo Burbino però Domenico era stato invitato a dire qualcosa magari gli diamo le conclusioni io voglio aggiungere qualche riflessione noi stiamo piantando tanti piccoli semi che sono convinto potranno metterci nella condizione di costruire una politica come è stato già annunciato capace di trasformare questa grande criticità che stiamo vivendo in una straordinaria opportunità per il Paese intanto è utile prendere atto che il Parlamento europeo su iniziativa della nostra parlamentare Silvia Costa ha adottato una risoluzione nel mese di novembre 2015 quindi poco più di sei mesi fa e in quella risoluzione con quella risoluzione il Parlamento europeo rivolgeva un appello ai Paesi membri perché ciascuno agisse secondo quelle indicazioni che sono state riassunte in questa felicissima espressione di corridoi educativi noi oggi sottoscriviamo un protocollo tra Ministero dell'Interno e Università italiane attraverso la CRUI attraverso il protagonismo del magnifico Rettore dell'Università Federico II Presidente della CRUI e altri Rettori e mi piace sottolineare che sia protagonista presente impegnata una Università del Mezzogiorno d'Italia l'Università di Cosenza che protocollo che sostanzialmente applica quei principi ne dà attuazione avvia un processo perché di questo si deve trattare dell'avvio di un processo che noi dobbiamo saper consolidare esattamente in ragione degli argomenti che sono stati proposti dal magnifico Rettore da Mario Morcone dalla Prefetto Scotto Lavina che svolge un ruolo importante nell'amministrazione e del lavoro che il Ministero dell'Interno nel suo complesso promuove e che vede protagonista Mimmo Manzione su questi specifici temi della immigrazione l'altro giorno ieri abbiamo firmato un protocollo con la Pontificia Università Lateranense che punta esattamente a realizzare gli stessi obiettivi offrendo delle opportunità a ragazzi che devono essere selezionati con procedure identiche con meccanismi di premialità che applicano mi sia consentito il principio della meritorietà più che del meritocratico in senso astratto perché determina un meccanismo di incentivazione all'impegno al rendersi protagonisti all'essere titolari del proprio destino perché noi dobbiamo praticare delle politiche di accoglienza che siano capaci di mettere al centro il rispetto della dignità della persona ma rifugendo a quegli atteggiamenti diciamo banalmente caritatevoli di aiutare chi è in difficoltà prescindendo dal progetto di vita di impegno di inserimento sociale che ciascuno deve saper pronunciare essendo messo nella condizione di poterlo fare ovviamente per questo la meritorietà è fondamentale io penso che queste prime iniziative che rendono protagonista il ministero dell'interno fatemelo dire perché spesso si è portati a raffigurare questo ministero come un luogo nel quale si esercita l'azione repressiva la polizia la burocrazia i prefetti voglio dirlo a chi è esterno a questo nostro mondo a questa nostra istituzione questi signori che lavorano con impegno con dedizione con trasporto con grande sensibilità e dedizione sono funzionari dello Stato sono prefetti sono persone che interpretano il senso dell'appartenenza ad una istituzione della Repubblica italiana mettendo in campo i principi fondamentali della nostra Costituzione non sono freddi burocrati insensibili ai problemi e alle sofferenze che abbiamo di fronte e io penso che noi dobbiamo far emergere anche questo profilo del ministero dell'interno che è un ministero dei diritti che è il ministero del rispetto della dignità della persona che è il ministero che pretende il rispetto delle regole per favorire l'inclusione e la condivisione tra i diversi soggetti perché le comunità possano trovare anche il senso di un comune destino fondato sul riconoscimento del rispetto degli altri della dimensione interculturale e della capacità di fare della diversità una straordinaria opportunità per crescere questo protocollo Mimmo io penso possa rappresentare un punto fermo per aprire una nuova stagione una nuova dimensione sulle politiche migratorie interpretando in maniera concreta il senso politico e programmatico che il presidente Renzi ha voluto dare e il ministro Alfano ha voluto confermare promuovendo il migration compact e questo il tema è la modalità propria dei corridoi educativi e della cooperazione con il sistema universitario di quei paesi cui il rettore faceva riferimento può rappresentare la chiave per una nuova cooperazione capace di determinare condizioni di crescita e di in una condizione di assoluta reciprocità perché i benefici ci riguardano anche non riguardano solo queste persone che oggi vivono una condizione di disagio per effetto delle discriminazioni razziali religiose delle persecuzioni delle carestie delle guerre e delle dittature per noi è una straordinaria opportunità e penso che questo esempio questa cooperazione che oggi formalizziamo debba restituirci anche il senso dell'orgoglio di appartenenza ad un paese che pur tra tante difficoltà e spesso tante incertezze ha in sé straordinarie energie straordinarie competenze straordinarie capacità di realizzare progetti ambiziosi per questo io voglio ringraziarla presidente professor Manfredi e ringraziare attraverso lei il sistema universitario del nostro paese che sicuramente diventerà protagonista di una nuova stagione di impegno per ridare al nostro paese quella capacità di essere protagonista delle vicende che oggi il mondo segnala attraverso queste emergenze grazie e buon lavoro a tutti noi a questo punto do la parola al nostro sottosegretario Domenico Manzioni così invocato allora io vi do scusa dal mio punto di vista sicuramente un'imboscata che però perdono volentieri sia a Filippo Bubico che a Mario Borcone perché sono convinto che è un'imboscata legata all'affetto che loro mi portano quindi diciamo così un'imboscata buona tra virgolette per il resto io posso solo posso solo ringraziare potete tirare un sospiro di sollievo non farò nessun tipo di discorso mi capita raramente di partecipare in occasione di questo genere e di poter ascoltare è per me un'occasione preziosa tranquilli non la sprecherò mi limito a ringraziare tutti quelli che sono intervenuti intanto per l'atto che stanno sottoscrivendo che è un atto importante in secondo luogo per come hanno approcciato la tematica sapete che in genere di queste cose se ne parla con toni piuttosto alti e molto spesso assai sgrammaticati una volta tanto abbiamo assistito diciamo così a ragionamenti sensati e visti atti sensati che ci proiettano non verso quello da fare oggi fra un'ora domani ma quello che ci proiettano verso il futuro del nostro paese penso che questo sia un dato particolarmente importante grazie due volte grazie al professor Manfredi perché non è la prima volta che i rettori delle università italiane collaborano con il ministero dell'interno proprio in quella logica di cui parlava Filippo Bubbico ne abbiamo avuto un altro di caso altrettanto emblematico molto sintomatico e direi di grande rilievo che è stato quello del recupero dei corpi che sono morti in mezzo al Mediterraneo la conferenza dei rettori è stata splendida nel fare con noi col commissario delle persone scomparse un protocollo che ci ha consentito e ci consentirà di dare un nome per tornare a quello che diceva Silvia Costa di dare un nome a queste persone che non sono numeri ma hanno dietro facce hanno dietro storie se riusciamo in giornate come questa a ricordarcene abbiamo già raggiunto un bell'obiettivo grazie ancora scusate sì no volevamo solo salutare soprattutto i nostri ospiti questa mattina che credo vengono dall'università della Calabria se ho capito bene i ragazzi i ragazzi che sono sul fondo della sala cioè l'università romana siamo molto contenti anche della loro presenza perché questo voglio dire testimonia già anche oltre che un interesse un coinvolgimento concreto in queste iniziali grazie grazie grazie